Gli studenti lucani iscritti al primo anno degli istituti professionali statali potranno conseguire una qualifica professionale come scelta alternativa al diploma di istruzione secondaria al termine di un percorso triennale di formazione e quanto stabilisce una delibera approvata dall'Aggiunta regionale su proposta dell'assessore alla formazione Rosa Mastrosimone. Il documento recepisce il piano sistema di istruzione e formazione professionale elaborato dalla regione attraverso una concertazione con l'ufficio scolastico regionale con le province e con gli istituti professionali statali. Le agenzie provinciali di potenze di Matera, Apofil e Ageforma organizzeranno i percorsi formativi nelle scuole superiori interessate. Delle 21 qualifiche riconosciute a livello nazionale, ha spiegato l'assessore alla formazione Mastrosimone ne abbiamo selezionate 13 perché vogliamo assicurare ai ragazzi un'offerta formativa più ampia e rispondente alle esigenze del mercato del lavoro in linea con la strategia adottata dal Dipartimento che punta a collegare il più possibile il mondo della scuola e della formazione al territorio e alle realtà produttive.